Ha voluto rivolgere un augurio speciale alla città per queste festività, la Volley Soverato. Le cavallucce marine, con in testa il presidente Antonio Matozzo, dal Christmas Village allestito su Corso Umberto a Soverato, hanno mandato il loro pensiero ai tifosi e ai cittadini. Un'occasione anche per festeggiare i tre punti portati a casa nel turno festivo contro il Marsala, valevole per la penultima giornata di andata del Samsung Galaxy Volley Cup A2, e trovare la carica per affrontare al meglio il prossimo match, ultimo del girone di andata e del 2017, sabato 30 dicembre alle 20.30 al Palascoppa contro il Chieri. Andiamo a disputare l'ultima partita del girone di andata con tre punti, con una vittoria molto bella a Marsala, convincente, che ci fa besperare per fare anche a Soverato una stessa bella prestazione e avere l'opportunità di giocare le quarti di finale di Coppa Italia da una posizione molto alta, che ci consenterebbe sia dal punto di vista dell'opportunità di giocare a Soverato, ma soprattutto di non andare a fare trasferte, il cui costo dell'aereo è micidiale. Per cui l'invito è alle ragazze di fare bene e di giocare con la stessa voglia, con la stessa serenità. Da tutti i tifosi della Calabria venite perché giochiamo alle 8.30 di sera, sabato. La squadra è ottima, un'ottima posizione di classifica, siamo convinti di giocarci comunque le prime posizioni fino alla fine. Più di così non potevo chiedere al 2017, ma sono convinto che il 2018 ci potrà dare altrettante soddisfazioni. La partita del 30 contro Chieri sarà una partita importantissima soprattutto per la classifica. Questi trapunti di Marsala ci aiutano sicuramente con lo spirito. Chiudiamo appunto questo 2017 sicuramente con un giorno d'andata positivo. Per il 2018 ci aspettiamo di fare altrettanto. Rossella Galati per l'AC News 24